Nel video di oggi, ci concentriamo su un'importante e triste novità che riguarda Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello. Prima di immergerci nei dettagli, assicurati di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornato sui nostri prossimi video e sulle ultime news. Angelica, che molti ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello, sta attraversando un momento particolarmente difficile a causa della separazione dei suoi genitori. Fin dall'infanzia, Angelica ha vissuto in un ambiente familiare segnato da tensioni e conflitti che hanno avuto un impatto profondo su di lei e su suo fratello. La stessa Angelica ha condiviso il suo dolore, parlando di una giovinezza segnata da trascuratezza e disagio. Attualmente, Angelica vive a Roma insieme al suo fidanzato Riccardo, che per lei rappresenta una vera e propria ancora di salvezza. Il loro trasferimento a Roma è stato dettato dalla necessità di superare le difficoltà familiari e di costruire una nuova vita insieme. Angelica ha descritto Riccardo come un pilastro fondamentale nel suo percorso di guarigione, affermando che lui le ha insegnato a darsi valore e a credere in se stessa. In merito alla sua esperienza al grande fratello, Angelica si dice orgogliosa del suo percorso, sottolineando di non essersi mai snaturata per il programma. Durante la sua permanenza nella casa, ha stretto legami importanti con alcuni compagni di avventura, come Letizia Petris e Mirko Brunetti, e, nonostante le tensioni, è riuscita a mantenere un atteggiamento positivo e a costruire amicizie durature. Sebbene la sua eliminazione sia avvenuta a causa di un televoto molto serrato, Angelica ha apprezzato il sostegno e l'affetto ricevuti dai fan, sia sui social che di persona. Il rapporto con suo fratello, tuttavia, resta complesso, influenzato da mentalità simili a quelle del padre. Per questo motivo, Angelica ha deciso di mettere se stessa e il suo futuro al primo posto, scegliendo di trasferirsi a Roma per cercare una nuova serenità. Prima di entrare nella casa del grande fratello, Angelica lavorava come manager in una società di informatica, dove aveva costruito una carriera promettente nel settore della gestione aziendale e della pubblicità. Oltre al suo successo professionale, Angelica è appassionata di arti marziali e dedica il suo tempo libero allo sport, dimostrando così la sua determinazione e forza interiore. E tu, cosa pensi di Angelica e del suo percorso? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video con le ultime notizie.